Luca Gotti non è più allenatore dello Spezia. La dirigenza ha comunicato la propria decisione in serata dopo un vertice durato praticamente l'intera giornata. La squadra è stata affidata momentaneamente alla coppia Fabrizio Lorieri e Claudio Terzi che prepareranno la prossima gara con la Juventus dopodiché il nome più gettonato per sedere sulla panchina spezzina potrebbe essere quello di Leonardo Semplici. Al tecnico viene imputata una cattiva gestione del gruppo con una squadra che nelle ultime settimane non è sembrata più al fianco dell'allenatore. A questo punto del campionato sono poche le alternative a disposizione e oltre a quello di Leonardo Semplici si fa anche il nome di Fabio Grosso mentre Paolo Sosa si è accasato alla Salernitana al posto dell'esonerato Davide Nicola. In casa Spezzina intanto si continua a lavorare in vista della sfida casalinga contro la Juventus con il gruppo che è tornato a lavorare questa mattina per l'ultima seduta agli ordini di Mister Gotti sui terreni del Comunale di Follo. Covalenco regolarmente in gruppo, allenamento personalizzato invece per Zola. Grazie a tutti.